Ciao, sono Tommaso Trevisan, specialist di prodotto della E-Tech Medical Division. E-Tech UE è uno dei nostri dispositivi della linea professionale con un ottimo rapporto qualità-prezzo-prestazioni. Combine infatti ultrassuonoterapia ed elettroterapia con la possibilità di essere utilizzati in modo indipendente o combinato. Tre funzioni in un unico dispositivo. Ultrassuonoterapia con effetto termico, vasodilatatore e trofico. Eletroterapia per l'effetto antagico o per il recupero del tono muscolare. Entrambi le modalità terapeutiche combinate insieme in un'unica seduta. E-Tech UE è quindi estremamente conveniente dal punto di vista del prezzo, molto performante nella prestazione con il paziente. La parte di ultrassuonoterapia fornisce una potenza di 3 W per centimetro quadro con una testina di 5 cm quadri. Lavora a 2 MHz per patologie più profonde, 3 MHz per trattamenti più superficiali. Per trattare zone del corpo più difficili da raggiungere, E-Tech UE lavora anche ad immersione grazie alla sua testina stagna. E-Tech UE è un dispositivo estremamente semplice da utilizzare, con pochi pulsanti, che permette al fisioterapista di gestire con semplicità le patologie indicate nel manuale d'uso. E-Tech UE mantiene costantemente il formato del terapista sul corretto collegamento cute-elettroda testina-cute. Se sei un professionista della terapia in cerca di un dispositivo in grado di coprire la maggior parte delle applicazioni richieste dal mercato, E-Tech UE è la macchina ideale, professionale, conveniente e performante. Grazie a tutti! Grazie a tutti!